Daniele Verde a Pescara, dalla Serie A da Frosinone alla Pescara in Serie B, per te però questo non è assolutamente un declassamento? No, così giovane non penso alla Serie o magari alla squadra, farò bene qua per poter andare di nuovo su. Avevi tante richieste e tante opportunità di mercato, non solo dal torneo cadetto, hai scelto fortemente proprio Pescara, perché? Sì, perché è una squadra che gioca molto a palla a terra, giocatori molto tecnici e mi fa piacere giocare con loro. Il Frosinone magari giocava con 4-4-2, tende più a difendersi invece a Pescara 4-3-2-1, quindi lì davanti ci sono molti giocatori per andare a fare gol. Invece in passato si faceva magari più fase difensiva per poi attaccare, io non ero portato per quel modulo. Il modulo che a me ha condizionato un po', ma non mi prendo rammarichi perché sto qui per migliorare e andare molto su e per ritrovarmi magari una squadra di alto livello. Io mi posso adattare in qualsiasi ruolo, anche tre quartista non ho problemi come gioca il Pescara e sarò pronto a dare tutto. L'obiettivo è unico perché se no non si può andare avanti e il nostro obiettivo è puntare là. Parliamo un attimo anche della stagione che andrai a disputare nel girone di ritorno. A te il Pescara chiede qualità ma anche qualche gol? Sicuramente, quella è una cosa che chiedono tutti, ma anche noi giocatori vogliamo e dobbiamo fare gol per poter andare avanti. Tra l'altro a Pescara ritrovi dei compagni, dei giocatori che hai conosciuto in passato come Caprari e Crescenzi? Sì, erano giocatori che stavano nelle giovanili della Roma. Io più piccolo giocavo nella squadra minore, però li ho visti tutti qua.